Le tecnologie servono ma occorre buon senso nell'utilizzo e quanto ha riferito il direttore della Polstrada Giuseppe Bisogno nel rimarcare i dati riferiti al 2016 in relazione agli incidenti stradali. Un più 18% di infrazioni alla norma che vieta l'uso del telefonino durante la guida. Di qui la proposta avanzata qualche tempo fa di misure più stringenti, ovvero ritiro immediato della patente a chi è sorpresa guidare utilizzando nel contempo il telefonino o altra apparecchiatura in condizioni di non sicurezza, poi toccherà il prefetto decidere sulla durata della sospensione. L'elaborazione della norma è molto semplice, spetta al legislatore ovviamente. Sappiamo che qualcosa in cantiere ha riferito bisogno e intanto la Polstrada si sta preparando ai grandi essodi estivi e già oggi una prova generale è attesa. L'obiettivo è di avere 1500 pattuglie Polstrada in azione ogni giorno nel periodo più critico. Nel corso del 2016 la Polizia Stradale in Calabria ha continuato a dare forte impulso ai servizi di controllo nel settore del trasporto professionale. Sono stati effettuati 388 servizi, da 1190 operatori di polizia. E ancora sono stati controllati 5133 veicoli pesanti con l'accertamento di 1771 infrazioni. Inoltre nel corso sempre dello scorso anno, di intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono stati attivati controlli d'iniziativa o su segnalazione dell'Istituto Scolastico. Nei primi dieci mesi dell'anno sono stati sottoposti a controllo 477 autobus, dei quali 86 hanno evidenziato almeno un'irregolarità. Realizzate anche campagne di informazione ed educazione stradale, come quella del Pulmano Azzurro al Giro d'Italia 2016.